Un incontro ci sarà ma non di certo per parlare della questione Fioretti, l'assessore regionale sotto il fuoco incrociato delle polemiche per aver fatto nominare la sua compagna nella commissione Stato-Regioni. Il presidente della regione Marco Marzilio glissa le domande sul confronto con il leader della Lega Matteo Salvini che dovrebbe mettere sul piatto, oltre a tanti temi di guardanti il partito in regione, anche quello spinoso dell'assessore al lavoro Piero Fioretti. Le parole di Salvini ieri sera all'uscita dal blendato vertice con i suoi a porte chiuse nell'hotel Villa Luigi di Martinsicuro, durato più di due ore, sono inequivocabili. Con Marzilio parlerò io. Io non ho incontrato Salvini, questa notte Salvini ha incontrato la Lega e credo che abbiano affrontato i problemi dell'organizzazione del loro partito, un partito che è cresciuto impetuosamente in questo ultimo anno e quindi magari ha un suo problema di crisi di crescita che sta affrontando e che affronterà con la Lega. Quindi nessuna questione Fioretti sul tavolo da affrontare con lui? Ha detto a Salvini che avrebbe parlato con il presidente Marzilio. Se Salvini vuole parlare con il presidente Marzilio sono sempre pronto a farlo e sarà per me un piacere farlo, anche una buona occasione per affrontare i tanti temi che riguardano l'Abruzzo. Non credo che quello sia l'argomento principale di cui Salvini voglia parlare con il sottoscritto.